Seduta calda, quella del Consiglio regionale, con il progetto di legge sulla nuova disciplina del Parco Naturale Regionale Sirentevelino e revisione dei confini, oggi in aula, firma del Vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente della Lega. Sulle barricate ci sono le opposizioni, con tantissimi emendamenti e che sventolano anche la petizione online, che ha raccolto oltre 150.000 firme contro la riperimetrazione dell'area protetta. Ci sono diversi comuni che si sono espressi a favore del ridimensionamento del territorio. Tra i consiglieri più battaglieri c'è Giorgio Fedele dei Pentastellati, che ha condotto questa battaglia sin dall'inizio, ma anche per Paolo Petrucci dei Demma. È un anno che porta avanti questa battaglia per tenere bloccato quello che è in realtà una vera e propria mannaiata nei confronti del Parco Sirentevelino, un taglio di 14.000 ettari che questa maggioranza, Fratelli d'Italia, Forza Italia e soprattutto Lega, in particolar modo l'assessore Imprudente, sta portando avanti. In un momento storico in cui in realtà ci si sta orientando a livello globale, europeo e nazionale a quella che è la transizione ecologica, quindi a una vera e propria valorizzazione del patrimonio ambientale, anche e soprattutto in chiave economica e sociale, la Regione ha deciso invece di smembrare, di dilaniare l'unico parco regionale di una Regione che ancora oggi ci ostendiamo a definire una Regione verde. Evidentemente questa maggioranza come idea di valorizzazione della montagna ha quella di strizzare l'occhio all'apertura della caccia, da utilizzare come terreno di caccia e come terreno, come bancomat per legname, per il disboscamento. La maggioranza appare abbastanza compatta su questo argomento. Una delle novità previste nel provvedimento è che il territorio del parco viene diviso in tre aree comprensoriali. Il presidente del parco sarà nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta della comunità del parco, tra soggetti dotati di esperienze e competenze in materia, e non più in seno al consiglio direttivo o fra membri nominati dal consiglio regionale. Il CDA viene ridotto a sei membri. Per la maggioranza la legge va insomma ad ottimizzare l'attività della governance, garantendo anche un risparmio nei costi di gestione, per superare dopo anni il commissariamento. La riperimetrazione, decisa per loro in funzione delle rinnovate esigenze delle comunità locali, non andrà ad incidere sulle peculiarità ambientali del parco. I confini ridisegnati riguarderanno quasi tutti i terreni agricoli, sostengono.